Per rimuovere le canne dal litorale sciclitano serve un milione di euro. Il dato è emerso dalla riunione convocata dal prefetto Maria Carmela Librizi. Qui hanno partecipato il sindaco Enzo Giannone e i responsabili degli uffici preposti. Il problema resta nella classificazione dell'ingente massa di materiale accumulato si inseguita al nubifragio del 22 gennaio scorso. Tanto l'ARPA quanto l'Ata Ambiente Ragusa hanno sostenuto che sulla base della normativa tuttora in vigore si tratta di rifiuti e come tali devono essere trattati e smaltiti. Ciò comporta l'attivazione di procedure molto complesse dai costi ingenti ben superiori al milione di euro. Tali procedure come affermate dal prefetto sarebbero di competenza di chi è proposta la trattazione della materia ovvero l'Ata Ambiente che però ritiene che una quantità così enorme di canne non possa essere smaltita e nessun impianto in Sicilia. Il sindaco Enzo Giannone ha fornito invece un altro approccio al problema perché se le canne fossero classificate come sottoprodotte agricole e quindi biomassa queste potrebbero essere trattate in loco attraverso triturazione smaltita attraverso procedure più celeri e molto meno costose procedure di cui potrebbe farsi carico il comune di Scicli se messe in condizioni amministrativo-giuridiche per farlo. Il sindaco chiederà pertanto alla presidenza della regione Sicilia una deroga interpretativa alla normativa che considerate tutte le urgenze e le necessità derivanti dall'attuale situazione ed interdizione delle spiagge classifichi le canne come biomassa derivante da sottoprodotto agricolo e ne permetta la rimozione secondo modalità sostenibili dal punto di vista organizzativo ed economico.